Musica Cari amici e cari amiche di Angoli, come sempre benvenuti a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento della sera, che iniziamo subito con un ospite che torna ormai da qualche tempo qui a trovarci. Io do il benvenuto a Tiziano Testori, medico chirurgo specializzato in odontostomatologia. Ben ritrovato Tiziano. Grazie Doris, grazie dell'invito, è sempre un piacere essere qua con voi. Che ricordo agli amici a casa, ci aiuta spesso ad affrontare temi che riguardano salute, e la nostra salute generale, in particolare con ricaduta sulla salute dei nostri denti e gengive, perché sappiamo bene, comunque la bocca in qualche maniera racconta molto di noi, oltre al sorriso, è vero? Quindi sorridiamo sempre. Anche se molti pensano che la bocca sia un qualcosa avulso dal corpo. E invece in questa occasione cerchiamo... Deve essere aggiustato, invece la bocca deve essere curata e bisogna prendersi cura della nostra bocca. Questa è la cosa importante da capire, perché fa parte del corpo. E con te ne parliamo, certo, ne parliamo volentieri. Questa sera tra l'altro di un argomento particolare, perché vogliamo affrontare quelle che vengono definite malattie moderne, poi capiremo di che cosa vuoi parlarci questa sera, per andare ad indagare se queste in qualche maniera hanno conseguenze proprio sulla salute dei nostri denti e gengive. Tra queste malattie moderne ci sono naturalmente disturbi alimentari. Quindi Tiziano, che ci dici in merito? Vi dico che è una grande tristezza vedere magari giovani donne, giovani ragazzi, che soffrono di anoressia, di bulimia, di binge eating, mangiano tantissimo, bevono tantissime sostanze gasate, bevande gasate, molto acide. E quali problemi rileviamo? Rileviamo dei problemi che quando aumenta l'acidità a livello della bocca, che può essere per il reflusso gastroesofageo, per il vomito indotto che certi appena mangiano vogliono fare vomito indotto per cercare di non assimilare il cibo che hanno assunto, che cosa succede a questi poveri denti? Succede che si demineralizzano, si erodono, c'è un'erosione acida dell'elemento dentale. Per cui lo vediamo che questi denti subiscono l'attacco acido e che cosa succede? Se hanno otturazioni, se hanno restauri, magari si formano delle carie secondarie, si formano a livello tra il dente e quello che è stato aggiustato, diciamo, in restauro, delle cosiddette infiltrazioni. Si lamentano di avere i denti molto sensibili. Le gengive che cosa subiscono? Certe volte subiscono infiammazioni sia per l'attacco acido, sia perché magari questi pazienti hanno delle deficienze vitaminiche, vitamina C, che è molto importante per il collagene e quindi per il turnover delle nostre gengive. È tutto un corollario di sintomi che poi il paziente di solito ti riferisce a quanto riguarda la bocca, ma dissimula il sintomo principale, non riconoscendo magari l'anoressia o la bulimia come una malattia, anzi cercano di non dirlo. Quindi un disturbo che però non viene così classificato come malattia vera e propria. Mattiziano, mi viene da domandarti qual è l'arco e il lasso temporale tra la durata, la manifestazione del disturbo alimentare e la ricaduta sulla salute dei denti? Allora, noi lo vediamo che magari pazienti in salute che poi diventano in età magari giovanile o in età adolescenziale anoressici, a parte il cambiamento che vedi la magrezza nel caso dell'anoressico che magari dissimula tutto questo, nell'ambito dei sei mesi, un anno, noi vediamo anche delle problematiche a livello degli elementi dentali. Una cosa importante è che questi poi di solito vanno incontro a dei momenti di depressione, magari prendono anche farmaci che interferiscono sul flow salivare, sulla produzione di saliva. La produzione di saliva è molto importante per tamponare l'acidità, per, chiamiamolo, lavare la placca batterica oltre allo spazzolino, oltre a una comune buona igiene orale, il potere della saliva è molto importante perché è un protettore del nostro dentro. Diminuendo la salivazione abbiamo con la bocca secca dei gravi problemi alle denti e alle gengibri. C'è poi, Tiziano, tutto quell'altro grande mondo delle intolleranze, per esempio, si parla spesso appunto di intolleranze al glutine, anche se poi di fatto non c'è una vera e propria diagnosi medica di celiachia, però sappiamo che c'è una grande diffusione anche di prodotti alimentari proprio finalizzati a questo tipo di paziente. Ecco, in questo caso che cosa succede? Questo delle intolleranze alimentari che è una malattia moderna, chiamiamo, perché ormai tu vai in banca e fai una rapina con un panino pieno di glutine perché la maggior parte della gente è intollerante al glutine. Gli OMG che aumentano in modo molto elevato la presenza di gliadina all'interno creano, all'interno dei nostri cereali e quindi del pane, di tutto quello che noi andiamo a mangiare, creano questi problemi di intolleranze e noi cosa vediamo? Vediamo nella dentatura permanente del adolescente magari dei difetti dello smalto a livello degli incisivi e dei molari che logicamente non erano presenti nei denti decidui perché nei denti decidui si formano i germi nella vita intrauterina e poi invece quando il ragazzino diventa grande, se è intollerante al glutine, può avere qualche piccolo deficit, macchie, discromie, colore dei denti, non perfettamente bianco, che non sono solo macchie più conosciute da tetracicline, da farmaci assunti, possono essere anche macchie dovute a intolleranze al glutine. Oltretutto il corollario di sintomi se uno è veramente celiaco e quindi avere dissenteria appena assume il glutine, avere tante altre problematiche, quella più semplice e più visibile è la dissenteria quando assumi il glutine, ci possono essere dalle manifestazioni che sono localizzate ai denti, in quelle situazioni borderline che non sai di avere la celiachie, però hai questi denti che sono cresciuti con discromie, con difetti dello smalto e non sai chiederti un perché. Ma tutto questo si manifesta per esempio dopo una certa età oppure anche da molto giovani, è un campanello d'allarme ricorrente? Questo si manifesta essenzialmente quando ti crescono i denti permanenti, però le intolleranze, e io sono uno intollerante al glutine perché ho degli anticorpi contro il glutine e sono diventato intollerante all'età di 50 anni, adesso ne ho qualche uno in più e tu dici ma perché? Perché molto probabilmente rientro in quella grande categoria delle persone che sviluppano queste intolleranze in età adulte per una variazione del grano in questi anni nella produzione di massa con gli ONG eccetera. Questa è la spiegazione che ti danno i medici che studiano questo. E la celiachia unita a anche malassorbimento, a non assorbimento adeguato di tutti i vari componenti, se hai un intestino completamente sano, può portare a deficit anche a una recrudescenza della malattia parodontale, perché? Dei problemi alle gengive, perché non assumi bene quegli oligoelementi, quelle vitamine che servono per il turnover del tuo collagene all'interno dei tessuti gengivali. Quindi il celiaco, l'intollerante, oltre che a essere seguito molto bene da un medico che si interessa di queste patologie, un gastroenterologo moderno, bisogna capire che anche a livello di bocca, sia gengive che denti, c'è da guardarci un pochino in dettaglio e dico ai telespettatori ditelo al vostro curante, perché ci possono essere dei risvolti e se il vostro curante non lo sa, potrebbe essere forviato nel fare una diagnosi adeguata. Ecco, a proposito proprio di questo ultimo tuo punto, anche negli ultimi due minuti che abbiamo a disposizione, quindi la diagnosi è un passaggio molto importante. I sintomi eventualmente che il paziente stesso può percepire e quindi comunicare in un quadro più ampio di collaborazione col medico prima poi di arrivare ovviamente allo studio dentistico. Allora, un problema che gli odontoiatri hanno, che il paziente, se non fai delle domande specifiche sulla sua salute generale, lui non te le dice perché sono venuto per aggiustare i denti, per quale ragione ti devo dire tutte le mie patologie generali. Tenete presente che magari poi anche l'odontoiatra, sempre di fretta, eccetera, non lascia adeguatamente spazio alla comunicazione, quindi non ascolta il paziente. Però se tu non gli fai determinate domande, lui non te le dice determinate patologie. Quindi la diagnosi parte da quello che noi medici chiamiamo anamnesi. Ti chiedo una serie di domande per riuscire a capire il tuo stato di salute e inquadrare alcune patologie che io vedo nella bocca e che abbiamo molte volte detto in queste chiacchierate che non sono solo dovute alla placca batterica. Per anni abbiamo stressato i nostri poveri pazienti dicendo lavati i denti, lavati i denti, e solo placca, solo placca batterica a causa di tutti i mali. La placca batterica deve essere tolta. La placca batterica è causa di carie parodontite. Però ci sono alcuni pazienti che hanno delle patologie in cui anche poca placca batterica causa più problemi perché di base c'è un substrato malato da una malattia generale che influisce a livello di bocca. Io ringrazio con questo Tiziano Testori che naturalmente invito a tornare qui nello studio di Angoli per continuare a riflettere su questi temi. Quindi grazie e arrivederci. Grazie a voi. Grazie anche a voi. Rimanete lì perché tra pochissimo, cambiando argomento, ritorniamo ad Angoli insieme. Grazie.